Per l'Ucraina, un altro Natale di guerra, un altro Natale al gelo. A Liman, cittadina nell'est, i russi sono stati cacciati più di un anno fa, ma gli abitanti rimasti sono pochi, anziani, e si arrangiano alla meno peggio. Niente luce né gas, ci si attacca alla stufa. Come viviamo? Aspettando che la guerra finisca. Allora vivremo, ma adesso? Adesso arriva qualcosa e spazza via tutto di nuovo, dice Volodymyr, 78 anni, con la mimetica addosso, ma senza l'incubo di dover prendere le armi. Mentre il suo omonimo, il Volodymyr che comanda a Kiev, sta per mobilitare un altro mezzo milione di persone, da aggiungere ai 500.000 al fronte. Il ministro della difesa, Umerov, dice che verranno richiamati gli uomini tra i 25 e i 60 anni che vivono all'estero. Ma non è ancora chiaro se chi non si presenta rischi e sanzioni. Il governo ucraino si consola con l'ultima tranche da un miliardo e mezzo dei 18 miliardi di euro sborsati dall'Unione Europea. Ma l'opposizione a nuovi aiuti è forte. Orbán in Europa e Trump negli Stati Uniti stanno facendo un ottimo servizio a Putin. Gli occidentali dovrebbero smetterla di trastullarsi aspettando il crollo della Russia, dice il boss del Cremlino. Mentre il capo delle forze armate, il generale Gerasimov, avverte che Mosca porta avanti una partnership strategica con Cina e India e un'attiva interazione con la Corea del Nord. Grazie. Grazie. Grazie.